Benvenuti alla Perla di Cleopatra, gioielli veri e gioielli dipinti. Io sono Rosaria Parretti e sono in compagnia di Silvia Malaguzzi, che è una grande studiosa di storia del gioiello, nonché iconologa. Ciao Silvia. Ciao Rosaria. Ecco, parliamo di che cos'è un'iconologa. Allora, iconologa non è uno studioso che studia le icone, come si può pensare, ma è uno storico dell'arte che si preoccupa essenzialmente di comprendere il significato della situazione che vede dipinta nel dipinto e quindi si preoccupa di tutti quei dettagli che in qualche modo possono tradire un messaggio più o meno occulto all'interno del dipinto. E nella fattispecie, io essendo appassionata di gioielleria, ho fuso le due cose e ho deciso che i dettagli sui quali intendevo soprattutto centrare le mie critiche, le mie letture, erano i dettagli preziosi. Dunque, in questa puntata Silvia mi ha proposto di parlare dei gioielli che sono in due celebri ritratti di Raffaello. Si tratta appunto della velata e della fornarina. Infatti questo è il 2020, è il cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello. Che cosa ci puoi dire in proposito? Che c'è stata questa bellissima mostra di Roma e devo dire era una mostra ricca e molto interessante, alla quale ho collaborato con molto divertimento. Ti volevo anche dire che noi fino adesso abbiamo usato i dipinti come documenti per raccontare la storia dei gioielli e qui faremo esattamente il contrario, cioè useremo i gioielli per cercare di capire qualcosa di più dei dipinti. Ecco a cosa serve l'iconologa. Esatto, è il lavoro del detective. Sì, che significato hanno esattamente i gioielli nei ritratti di Raffaello? Allora, Raffaello è il pittore della sprezzatura. La sprezzatura è quella capacità appunto codificata dal cortigiano di Baldassarre Castiglione di nascondere lo sforzo dietro a un risultato assolutamente naturale. L'arte c'è ma non si vede. E quindi i gioielli rappresentano un banco di prova fra i più sfidanti. In che senso, scusa? Tanto perché è difficile rendere la materia preziosa. Parlando con una restauratrice mi ha raccontato che è incredibile come Raffaello ottiene l'oro, non con l'oro metallico, con la foglia oro chiaramente, perché siamo fuori epoca, ma con un gioco di velature sovrapposte. Quindi arrivare a dare l'effetto metallico è veramente una cosa di una complessità estrema. Ed è questa secondo te la cosa più difficile del rendere i gioielli in pittura? A parte questo, la cosa difficile secondo me è quella di rendere i gioielli come parte naturale di quello che è raffigurato. Non qualche cosa di sovrastante o di compiaciuto, no? Raffiguro il gioiello perché lo so fare, quindi cerco di farlo in tutti. No, no. Il gioiello è un ingrediente. Non è un esercizio di stile. Esattamente. È un ingrediente che deve aiutare l'opera ad essere ancora più naturale possibile. E poi c'è una capacità straordinaria da parte di questo pittore di rendere ogni dettaglio pittorico un elemento parlante. Quando un pittore è di altissima qualità tutto quello che utilizza non è casuale, non è frutto di una scelta quasi mai esclusivamente estetica, ma ha un preciso significato, un preciso senso. E più l'eloquenza pittorica si giova di dettagli e più il dipinto è significante. Quindi il dipinto è ricco e importante per chi lo guarda. Silvia, andiamo nel dettaglio di questi gioielli dipinti da Raffaello. Allora, innanzitutto i gioielli sono un elemento di distinzione per Raffaello fin dall'inizio perché sono una parte della sua ricerca di realismo appunto. E poi lo allontanano dai due grandi maestri del Cinquecento che sono Leonardo e Michelangelo. Perché non dipingevano i gioielli? Assolutamente no. Michelangelo non dipingevano anche i ritratti. Leonardo ha fatto ritratti meravigliosi, però non ha messo tutta questa attenzione nei gioielli. Infatti se vai a vedere i ritratti di Leonardo ti rendi conto che sì c'è qualcosa ma non così sviluppati. Quindi lui ha trovato secondo me nel gioiello anche un elemento di distinzione. Intanto volevo premettere una cosa che lui gioielli li conosce molto bene e li conosce e conosce anche il linguaggio segreto delle gemme. È un linguaggio che normalmente chi operava in ambito umanistico doveva conoscere perché faceva parte dell'erudizione dell'epoca. È molto probabile che lui gioielli li conoscesse anche proprio per dialogo con grandi gioiellieri di cui abbiamo evidenza storica oltretutto perché lui era amico di questo Antonio da San Martino che era un gioielliere famosissimo ad Urbino che poi si sposta a Roma come farà anche Raffaello e lavora per il Papa. E poi abbiamo evidenza anche di un rapporto con Valerio Belli che è stato un grandissimo incisore di Cristallo di Rocca. E sappiamo di questo rapporto con Valerio Belli perché Raffaello stesso gli ha fatto il ritratto, un piccolissimo ritratto che oltretutto è pubblicato nel catalogo. Ecco, ma perché appunto abbiamo scelto la fornarina e la velata? La velata e la fornarina hanno la caratteristica di essere spesso state considerate come due espressioni di una stessa identità. Quindi si pensa che il personaggio dietro alla velata e la modella dietro alla velata e la modella. Esatto. Ecco. E perché arriviamo a pensare questa cosa? Perché si assomigliano oppure perché ci sono anche altri indizi? C'è un elemento che è quello che mi riguarda che è la presenza di un pendente fra i capelli che poi ritroveremo anche nella fornarina. Ricordiamo un attimo com'è il quadro della velata. Allora, il quadro della velata è una bellissima fanciulla velata conservata normalmente nella Galleria Palatina di Pitti e penso adesso sia già ritornata da Roma, penso. Quindi una bellissima fanciulla velata con un viso dolcissimo e un ricchissimo abito, forse anche un po' sproporzionato diciamo a quell'espressione semplice e volto semplice che la fanciulla ha, che la fanciulla mostra, un abito molto opulento che probabilmente Raffaello le ha messo per farla diventare una modella a pieno titolo, pieno d'oro. Ma la cosa appunto che mi ha interessato particolarmente è l'esistenza di un bracciale, vedi semi nascosto, dalla manica sinistra e poi un vezzo di una materia che devo dirti inizialmente avevo frainteso, pensavo si trattasse di ambra, poi l'ho guardata meglio e ho capito che poteva trattarsi di granato e poi questo bellissimo pendente da testa che si intravede appena dietro al velo, il solito concetto della sprezzatura, cioè che le cose si devono vedere ma non devono mai essere ostentate. Allora, la cosa interessante è che sia il vezzo che il bracciale hanno una foggia antica. Nel vezzo queste gemme appunto che io poi alla fine ho considerato verosimilmente dei granati, vedi, sono delle gemme cabochon di cui le due più estreme, più in ombra, rivelano chiaramente il loro rosso intenso, mentre le altre sono un po' più pallidine. Questo è in armonia con il tipo di materiale, però è anche in armonia con i giochi di luce sapientissimi che Raffaello fa sul vezzo stesso, ed in armonia col fatto che spesso e volentieri queste collane che erano molto diffuse a Roma, e questa probabilmente è una collana romana, molto diffusa nella Roma antica e anche in epoca ellenistica, al posto delle gemme ogni tanto mettevano delle paste vitre che non sempre avevano lo stesso colore, erano completamente pertinenti. E quindi sei arrivata alla conclusione? Sono arrivata alla conclusione che si tratta di una collana romana e che si tratta di una collana archeologica. Ecco, io ho molto molto la sensazione che si tratti di una collana archeologica. D'altra parte il bracciale anche è un bracciale di gusto archeologico, intanto perché i bracciali nel Cinquecento si portavano molto fino a un certo punto, però nella fattispecie questo, se uno lo guarda nel dettaglio, vede che ha proprio la classica struttura in oro e filigrana, a fascia in oro e filigrana, e sono incastonate anche qui delle gemme cabochon, anche queste non si capisce perché è nell'ombra, ma potrebbero essere ancora una volta granati oppure delle corniole. Una fattura decisamente ben documentata in epoca romana, ma molto poco documentata, anzi non documentata, in epoca rinascimentale. E com'è che Raffaello poteva avere accesso a questi monili veri, romani, antichi? Perché sceglie di dipingerli anche? Il Love Affair di Raffaello con l'Antico è sicuramente uno degli argomenti fondamentali della mostra, ma insomma c'è proprio un dato storico che lui nel 1515 viene nominato dal Papa Leone X, che era il Papa Medici, estremamente colto, un umanista assolutamente. Dipinto da Raffaello come umanista tra l'altro. Assolutamente, raffigurato proprio come umanista e viene insignito del ruolo di sovrintendente, quindi di responsabile alla conservazione di monumenti antichi. Ed è probabile che in quell'occasione, ma Roma poteva essere successo anche prima, avesse avuto la possibilità di maneggiare qualche prezioso emerso dal sottosuolo dell'Urbe. Quindi sicuramente lui aveva avuto un accesso diretto a questo genere di oggetto. Considerato che per Raffaello poi, come per tutti gli eruditi del Rinascimento, la Romanità era il luogo ideale di ogni bellezza, di ogni armonia e di ogni virtù. Il fatto di aver messo alla velata dei monili romani ci dà la sensazione che volesse presentare veramente un modello femminile, un modello femminile di virtù e di bellezza, tra parte ha un'area così carina, così pudica, questa mano sul cuore, come dire, sono sincera, sono piena di sentimento. Comunque è vero e interessante perché il volto della fanciulla diciamo non è un volto nobile, sembra nobilitato più che nobile. Infatti questa è la sensazione, poi naturalmente la cosa singolare appunto è che il pendente poi ci conduce. Ecco, andiamo al volto della fornarina. Il volto della fornarina, se vogliamo, non ha proprio proprio gli stessi lineamenti, però la critica è convinta che qui in qualche modo nella velata si cercasse di nobilitarla e di metterla su un piano superiore, darle un'armonia che di fatto poi non aveva. Mentre nella fornarina presentata un po' come una venus pudica, mezzanuda, insomma con attributi diversi, invece volesse farla risaltare per la sua bellezza sensuale, come sua creatura, no? In qualche modo. Ecco appunto la cosa interessante sono questi due pendenti. Esatto, questo pendente portato così sui capelli è un po' insolito, no? È piuttosto singolare, sì, perché normalmente i pendenti si portano al collo, non certamente sui capelli. Quindi il fatto che sia portato sulla testa è qualche cosa che ci fa pensare che Raffaello volesse sottolineare l'identità attraverso la presenza di questo pendente, perché comunque è un ornamento da testa e la testa è la cosa che meglio di tutte della persona presenta l'identità. Quindi il fatto di metterci il pendente è come dire io richiamo l'attenzione qui dove è la sede dell'identità, non solo. La perla che ben si legge il contrasto con i capelli bruni sotto probabilmente ci dice che qui si tratta di una chiave e la chiave potrebbe essere. Questo è affascinante pensare che sia la seguente, siccome perla in latino si chiama margarita e l'amante di Raffaello si chiamava margarita lutti, la perla in qualche modo dovesse darci delle indicazioni sull'identità della persona stessa. Se poi andiamo a leggere le pietre, anche lì abbiamo una sorta di identikitma di ordine morale. In che senso? Perché c'è una pietra rossa nella velata e un diamante. Ricapitolando, nella velata abbiamo diamante, rubino e perla e nella fornarina abbiamo perla, rubino e pietra non identificata. Però è la stessa struttura? È la stessa struttura dipendente ed è indossata la stessa maniera perché vedi sotto c'è in entrambi casi questa piccola ghirlanda o lenza, come la vuoi chiamare, che sostiene il pendente. Il pendente poi racconta comunque delle caratteristiche caratteriali perché la perla è comunque sempre un simbolo di castità per le infinite ragioni che abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti, per l'origine casta e tutto quanto. Il diamante nel caso della velata è sicuramente un segnale di tenacia perché dobbiamo pensare che nel Cinquecento il diamante era ancora una pietra non domata. Non avevano ancora capito come fare a sfaccettarla. Era considerato l'invincibile. Questo era già nella letteratura erodita dei lapidari. Avevano già sottolineato che né ferro né fuoco potevano attaccare il diamante. Di fatto appunto era considerato l'indomabile. Normalmente lo utilizzavano o con la punta o tagliato a tavola perché altri sistemi non riuscivano a trovarli. Ma anche questi saranno argomenti di cui parleremo. Di cui parleremo. E invece cosa mi dici del rubino? Invece il rubino, beh il rubino è rosso come l'amore quindi sicuramente è un messaggio amoroso quello che lui ci vuole trasmettere. In entrambi i casi sono due figure amorose, due figure importanti da un punto di vista sentimentale per il pittore. Purtroppo, e qui bisogna che ti faccia vedere un'altra immagine dai miei libroni. Ecco che Silvia sfoglia i suoi libri. Ah, ce n'è un terzo. Esatto. C'è un terzo ritratto femminile con pendente sulla testa. Esatto. Questo ci confonde un po' le idee perché questo pendente che però consta di un'unica gemma, una gemma rossa e la perla però come sempre a contrasto con i capelli. Dov'è questo ritratto? Questo è a Strasburgo. Ecco. Sembrerebbe voler dire che anche questa terza figura ha la stessa identità però qui la critica è un'anime nel vederci invece un altro personaggio. Che cosa può essere successo? Allora, siccome questo dipinto non è con certezza di Raffaello ma potrebbe essere stato cominciato da Raffaello e ultimato da Giulio Romano o dipinto completamente da Giulio Romano, questo non si sa, è più che probabile, considerato anche il fatto che il pendente non è attaccato all'acconciatura come negli altri due casi ma in una maniera diversa, questo è direttamente appuntato sul turbante della fanciulla. Infatti la fanciulla ha un turbante come nella fornarina però è una cosa diversa. È proprio un misto fra i due dipinti. Ecco, la mia sensazione, la mia ipotesi è che Giulio Romano possa aver completato un'opera già iniziata dal maestro e che il gioiello lo abbia messo lui e lo abbia messo in maniera diversa ma in maniera che ricordasse quanto aveva fatto Raffaello sia nella velata che nella fornarina. Vogliamo vedere un pochino più in dettaglio anche la fornarina perché mi sembra che non ci sia soltanto il pendente sulla testa. Infatti la cosa più interessante, probabilmente diciamo più strana, è questo bracciale che non è un bracciale ma è un'armilla. E che cos'è un'armilla? L'armilla è proprio un tipo di bracciale però indossato sull'omero e non nell'avambraccio come al polso come normalmente accade con le maniglie che avevamo visto della Venere di Tiziano. Non si tratta di un'armilla ma ancora più interessante è il fatto che su questa armilla poi Raffaello ha posto la sua firma, Raffaello Urbinas, come dire possesso. Cioè non è solo la firma del quadro ma... La firma del quadro però nel contempo ci comunica qualche cosa di più, insomma messo così in un bracciale che poi è un bracciale alla schiava per noi, in realtà non lo è, poi ti spiego perché, è stato il luogo comunque in cui lui ha messo il suo, ha deciso di mettere la sua firma. Quindi ci dà delle indicazioni molto precise sul fatto che ha firmato il dipinto ma è anche proprietario della modella, sia chiaro. E dunque cos'è che ti volevo dire a proposito del... Ah sì, del bracciale alla schiava. Il bracciale alla schiava, allora non è alla schiava, adesso per noi è alla schiava perché non abbiamo presente, certa iconografia ottocentesca in cui questo bracciale portato così è il bracciale alla schiava. In realtà il bracciale portato così fa parte dell'iconografia di Venere e ti posso anche dire che una delle opere scultore esposte alla mostra era proprio questa Venere accovacciata che veniva dagli uffizi e che recava esattamente la stessa armilla. Quel tipo di opera, quell'opera lì non l'aveva vista Raffaello presumibilmente ma poteva aver visto una copia che era posseduta da Guido Baldo da Montefettro per cui lui ha lavorato quindi è più che probabile che chi avesse visto quella ma anche se non l'avesse vista l'armilla fa parte proprio della parure di Venere e lo dice anche Omero, lo dice Omero che nell'inno ad Afrodite elenca fra gioielli della dea anche l'armilla. Quindi mi confermi che nella fornarina c'è attenzione da parte di Raffaello all'iconografia della Venere classica. Sicuramente c'è chiaramente nella scultura e non nella pittura perché a quell'epoca la scultura era sotto gli occhi, la pittura molto meno fa riferimento a Venere anche la posizione che è proprio quella della Venere pudica quella stessa di Botticelli. Con la mano fra i seni. Lui voleva rappresentare una figura mitologica, voleva rendere mitologica la sua Venere. Esatto. Mi sembra che non ci siano altri gioielli su questo dipinto. E invece ti sbagli perché ce n'è uno, uno scarsamente visibile nella seconda falange dell'anulare sinistro che è questo piccolo anellino. Grazie ai libroni di Silvia riesco a vederlo. È fondamentale avere delle immagini, delle immagini o possibilmente l'opera vera oppure delle immagini ben fatte. Chi può va da Palazzo Barberini. Certo. E quindi c'è questo piccolo anello che però non è portato fino in fondo. Allora questa è una moda effettivamente, nel senso che come in epoca romana gli anelli venivano portati su tutte le falangi, questo è portato nella seconda falange del dito anulare. Però secondo me c'è anche un messaggio di tipo spirituale in tutto questo. Che è l'anulare e quello della fede. Esatto. Siccome l'anulare è il dito dell'anello maritale, il fatto che non sia completamente calzato mi dà la sensazione che si tratti di un'allusione a un rapporto che in realtà non è ancora stato formalizzato. O non poteva. O non poteva essere formalizzato. Ora di fatto lei pora donna sembra che si sia fatta suora dopo la morte di Raffaello o comunque ha finito i suoi anni in un convento. Quindi evidentemente lei viveva per quest'uomo. Lui si sa che era molto attivo e molto interessato alle donne quindi non lo so se non potesse. Sicuramente non c'è stato neanche forse del tutto il tempo perché Raffaello è molto giovane e quindi sicuramente era nei suoi progetti in una qualche maniera. Però al momento in cui ha dipinto il quadro non ha voluto legarsi più di tanto. No, stava bene così. Ha detto sì, questa è roba mia, per carità roba mia si vede perché... Ci ho messo l'armilla, ci ho messo la firma, ci ho messo l'anellino però comunque è una è una cosa non compiuta. Bene e con questo incompiuto di Raffaello chiudiamo questa puntata di La Perla di Cleopatra e un saluto da Rosario Parretti e un saluto da Silvia Malaguzzi, a presto. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti.